uso di turbodecoder sulle macchine kia e hyundai con profilo chiave hu22 della silica la confezione di trasporto dentro la cartella con marchio registrato turbodecoder due resettatori e il decoder per andare davanti la procedura dobbiamo resettare i perni e portarli in posizione di partenza è una procedura da seguire con attenzione questa è la chiave con il profilo perni da quattro lati cerchio di tensione ologramma con nostra compagnia numero di serie due punti di stop linea di stop e cerchio di pompaggio con numero di serie modello del decoder per azzerare l'attrezzo girate tutto a destra e poi solo con questo stampato hu22 a fianco ce ne sono dei dei buchi specifici dove la punta del resettatore calibrato deve entrare e spingere il perno mobile questo è l'unico modo di fare il reset tre pronti a fianco ce ne sono altri tre vediamoli da questa parte sei pronti 9 pronti 12 perni pronti come capiamo l'orientazione questo è il segno di orientazione finestra che si apre a destra finestra che si apre alla sinistra quale finestra ecco qua tocchiamo la finestrina con il resettatore il resettatore se questo si apre verso destra quando inseriamo il decoder dobbiamo vedere questo segno che questo sarebbe la finestra che va a destra e qui il turbo decoder adesso sappiamo qual è la giusta orientazione per entrare per favore tutto a destra altrimenti c'è il rischio di rottura tutto a destra entriamo c'è da fare un po di gioco durante l'inserimento eccolo qua quando tocca il fondo della serratura siamo a posto adesso la procedura tensore tensione a destra rotazione a sinistra fino alla linea al primo numero così torniamo indietro dall'altra parte uguale 11 dobbiamo ripetere quel primo stop per una ventina di volte sempre pensiamo destra e sinistra pompaggio a destra linea all'uno torniamo indietro e proviamo questo è il clutch sistema di protezione del cilindro contro lo sforzo allora facciamo 20 stop all'uno se non si apre la serratura andiamo a aumentare il pompaggio e puntare la linea verso il 2 e così poi andiamo una ventina di pompare di pompaggio a 2 in un momento la serratura parte allora questa parte in un modo molto molto particolare va di questa parte non vuole andare dall'altra parte come si risolve il problema stiamo in rotazione facciamo l'ultimo pompaggio quando la resistenza qui diventa troppo ci fermiamo e giochiamo un po con la chiave così si impronta molto bene il codice sui perni mobili e adesso dovrebbe passare eccolo qua dovrebbe passare dall'altra parte quindi adesso noi abbiamo una chiave meccanica tra virgolette tra virgolette per questa serratura per estrarre il decoder molto importante tutto a destra e adesso in posizione neutrale usciamo perni memorizzano il codice se noi entriamo con la giusta orientazione abbiamo la chiave di questa serratura anche nel cruscotto se l'orientazione giusta entriamo e giriamo anche il cruscotto per aprire un'altra serratura a zerare stessa per fare il training c'è da a zerare sempre così con un po di pratica non è non è difficile di fare la manipolazione di kia e hyundai con profilo hu 22 se ci sono delle domande sono sempre a disposizione grazie ed attenzione e buon lavoro con il prodotto originale io sono l'inventore daniel atanasu bulgaria sofia